Silvia di qua per favore, rimani, rimani, non puoi andare, quando avete fatto, tra mezz'ora è tutto finito. Francesco, guarda qui, grazie, un sguardo a tutti, scusa, un secondo, un secondo, avanti a te Francesco. Buongiorno, buongiorno avvocato, un passetto proprio microscopico più caldo. Eccolo, una favola, un passetto avanti, un passetto avanti, Max, ma io inizio all'ardere. Max, un attimo, scusate, scusate, scusate. Bellissimo. Voi avete fatto, io ho ancora una, Max, è bellissima, Max, sì. Max, in seconda a destra quando potrà, anche al cartonato per favore. Sì, cartonato? Sì, grazie. Eccolo! Eccolo! Instra! 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 Non basta più basso la mano! Non basta più basso la mano! Max, qui! Buongiorno, perché genocca! A sinstra! Guarda qua, grazie Max! Eccolo, non vrei! Ma attenta come vuoi! Grazie! Grazie! Eccolo, grazie Stefano, da noi! Eccomi! Levo le tasse a tutti, tranquilli. Ma quando hai fatto? Stefano! Eccolo! Grazie! Stefano, il passetto più qua, poi ti rimetti di là, grazie. Ancora un passettino? Grazie. Prima è quello che fanno tutti i regnanti da sempre, Pio. Stefano! Se chiama la coerenza, chi è? Stefano! E' qua per cuore! Guardate! Grazie! Vi faccio un passetto qua, così facciamo anche vedere che fa andare lavorato per noi! Stefano, Stefano! Eccolo! Grazie! Hai tutto qua? Te la puoi? Stefano! Hai tutto... Destra! Stefano! ... Che cosa fanno? Eccolo! Eccolo! Anche qua, Stefano! Eccolo! Eccolo il mal di corona! Tu hai il mal di corona! Eccolo, va a piacere! Va, fronte al qua, grazie! E qua, di qua? Stefano! Stefano! Ma se ti piace questa cosa? Ti posso fare una cosa del genere, perché questo è un rete per non tenere il suo apporto, dai, non diciamo, giù. C'è qualcosa, grazie. A posto? Sì, grazie. Dividetevi dal manifesto che è stato finito. No, vabbè, guarda. Non era meglio di essere finito? Vai, ok, perfetto. Ragazzi, venite qui dietro con i telefonini. Grazie. Cominciate da un lato, dal lato destro, dalla vostra testa. Dalla vostra testa, partiamo? Sarei morti a Poloneo in una botta sola. Via, vai. Fai. Gianni che anni? Siamo arrivati. Siamo arrivati, veramente. E' arrivato, arrivato. Siamo arrivati. Ci aspettiamo a sinistra. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. ce li mettete con photoshop? si